Nel 2023 le emissioni di polveri sottili sono diminuite, ma non abbastanza. E infatti il 2024 in Veneto è iniziato con una nuova impennata di smog. Nel Padovano Cittadella entra in zona rossa, la città del Santo veleggia tra rosso e arancione. In zona verde rimangono solo Bassano, Schio, Belluno, in parte Feltre. I pericoli per la salute ci sono tutti. La preoccupazione ci deve essere, ma deve servire per agire, per attuare comportamenti consapevoli e quindi non uscire nei momenti di grande pressione inquinante. La mattina cercare di evitare di stare nelle strade, nel traffico, non portarci i bambini nei passeggini. Per gli anziani, per chi ha patologie cardiovascolari, è importante non rimanere troppo tempo all'aria aperta. Però è importante anche non chiudersi in casa, perché gli inquinanti purtroppo penetrano. Lo sforzo deve tradursi in politiche concrete. Benvenga la presa di posizione del Presidente Veneto del Lanci, l'Associazione dei Comuni. Il Sindaco di Treviso, Mario Conte, infatti, lancia un appello al Governo, chiede un piano straordinario per sostituire le caldaie e piantare alberi. Si fa molta ideologia sul tema, anche sulle zone 30, sui chilometri orari, si è fatta molta disquisizione, un po' per niente, secondo noi, perché sono tutti provvedimenti utili e necessari quando c'è l'emergenza. Quindi dobbiamo essere consapevoli che nel periodo invernale, dal 1 ottobre al 30 di marzo, bisogna attuare tutto quello che le ordinanze prevedono. Una categoria che va aiutata a capire i pericoli e i suoi comportamenti pericolosi, invece, è quella degli agricoltori. Le emissioni inquinanti dell'agricoltura sono elevatissime. Se noi guardiamo le centraline nelle aree rurali, hanno dati addirittura più alti di quelle delle aree urbane, delle centraline di traffico. Significa che non si sta attenti con gli spandimenti che dovrebbero essere vietati in questo periodo e effettuati comunque interrando direttamente il liquame e non lasciandolo a cielo aperto. Non si fa attenzione ai bruciamenti, quindi si brucia in campagna all'aria aperta e questo deve essere vietato.